e non era l'immersione con i turisti era dobbiamo andare a vedere lo scuolo Volpe anche perché loro venerano praticamente ci siamo svegliati prestissimo abbiamo fatto un'ora di navigazione in mezzo al nulla ci buttiamo nel blu e aspettiamo per 10-15 minuti cioè metà immersione fermi a guardare il blu e il tipo mi diceva aspetta, aspetta, aspetta e diceva ma che aspetto? qua mi sa che è finita ciao raga, benvenuti a una nuova puntata di Sivola On Air oggi abbiamo due ospiti e per presentarli io mi devo far aiutare da Wikipedia Simone Barlam quanti ore hai vinto? qua mi parla di quattro ore quattro ore tra Tokyo e l'ultima recente Olimpiade di Parigi e non solo Simone perché oggi abbiamo un altro grande amante dell'acqua però subacquea stiamo parlando di Marco Spinelli documentarista subacque non ho medaglie non hai medaglie? no ma non avevi vinto quella io avevo vinto una medaglia quando avevo 12 anni tipo il miglior presepe del quartiere al catechismo però ah io avevo vinto l'oro nei 111 stocco dei giochi della gioventù non valgono lo stesso non lo so dovrei chiedere, mi devo informare benvenuti ragazzi grazie a questo podcast qui parliamo di viaggi però oggi ovviamente l'elemento in comune è l'acqua Simone nuotatore diversi anche a record del mondo quanti a record del mondo? ah non lo so penso 5 5 record del mondo non ho talmente tanto ma stai flexando proprio un po' troppo un po' troppino e appunto Marco fa immersioni abbiamo fatto un viaggio insieme tra l'altro un anno fa in Madagascar è nata un'amicizia con Marco facciamo tanti altri viaggi con si vuole avremo modo di parlarne in questa puntata l'acqua partiamo da qua cioè cosa significa per te cosa significa per te Marco? comincio io solo perché hai vinto gli ori ok solo per questo c'era la precedenza ma l'acqua per me è sempre significato tutto perché comunque specialmente era piccolino ma anche adesso mi dava sensazioni che la terraferma non mi trasmetteva quindi dove sulla terraferma ero e sono un po' goffo ma al destro in acqua mi sentivo leggero aggraziato e mi sentivo non in difetto rispetto agli altri ma quasi in vantaggio rispetto ai cosiddetti normolotati e quindi ho sempre avuto questo rapporto con l'acqua che tuttora mi porto dentro e che me l'ha fatta amare sin dal primo giorno ok hai voglia di raccontare questa cosa un po' più in specifico oppure vai passiamo si no no raccontiamo assolutamente io ovviamente sono nato con una disabilità con una gamba più corta dell'altra fa molto in breve un po' come Nemo e diciamo che all'inizio della mia vita il mio femore era molto fragile era fragile quasi come cristallo diciamo perché si fratturava sempre quindi tantissimi interventi chirurgici uno dopo l'altro inizialmente come anche riabilitazione e come luogo dove potessi fare attività fisica senza rischiare che la forza di gravità altri sport di contatto come possono essere calcio basket eccetera andassero a rompere quell'osso l'acqua è sempre stata lì sin dal giorno zero e quindi prima come riabilitazione dopo gli interventi poi come passione perché comunque a me è sempre piaciuto stare in acqua pian piano anni dopo anni ho iniziato nel 2014 nel mondo paralimpico a prendere il nuoto un po' più seriamente e adesso siamo qua e visto che andavi forte c'era del potenziale su cui abbiamo lavorato e adesso posso dire che sto andando forte stai andando bene lascia te lo dire stai andando bene grazie Marco te invece da tuo padre è arrivata questa sì io da buon siciliano che è cresciuto in mare quindi davvero famiglia amante del mare siamo cresciuti io e mio fratello con il nostro padre che ci ha trasmesso questa passione ci ha buttato in acqua già dai primi anni con mia mamma che aveva il terrore lui che ci prendeva ci lanciava in acqua però questa questa grande passione poi si è trasformata davvero in anche in lavoro perché da mio fratello ha proseguito per la strada scientifica diventando biologo quello serio quello serio quello l'altro fratello no io in realtà ho cominciato a raccontare il mare esatto attraverso la fotocamera attraverso la fotografia i video e oggi ci ritroviamo appunto a fare documentare e raccontare il mare a 360 gradi e l'acqua come diceva Simo è un un elemento che ti dà la possibilità di di vivere un'esperienza completamente diversa a quella che vivi in superficie e comunque io poi ho la fissazione del mondo nascosto da esplorare perché è come se andassi davvero a conoscere un posto che non hai mai visto che non sai che cosa puoi trovare in profondità è pazzesco infatti adesso parliamo magari anche proprio del mondo subacqueo perché Simone è un campione di nuoto però è anche un grande appassionato di subacqueo ci siamo immersi insieme in Madagascar abbiamo visto gli alieni sott'acqua praticamente raccontiamo un po' anche di questo del mondo subacqueo a me personalmente anche una passione tramandata di famiglia mio fratello è l'istruttore subacqueo quindi sono cresciuto con la subacqueo in casa e questo mondo subacqueo appunto è questo silenzio questa bolla senti solo il tuo respiro ti sembra di volare dà effettivamente delle sensazioni che sulla terraferma uno non è abituato a vivere un ricordo che avete di questo viaggio che abbiamo fatto insieme l'anno scorso in Madagascar anche divertente di ricordi divertenti ce ne sono tanti io oltre alle varie immersioni la sensazione di quando appunto siamo andati tutta la mattina tutto il giorno alla ricerca dello squalo balena poi noi abbiamo visto noi tre abbiamo visto un gruppo di megattere gigantesco quella sensazione un po' non so neanche se definirlo brivido ma dello sconosciuto non sapere cosa può spuntarti davanti di essere solo lì e guardarti il mare sentire il silenzio io ho una sensazione alla quale dovremmo coniare forse un termine per descriverla ma che secondo me è molto speciale coniamo un termine anche per quella balena che schiaffeggiava il mare lì siamo stati super fortunati sì io non ho mai visto ti ho mai capito ti ho mai capito che era una balena che continua a schiaffeggiare così vicina con tutta la testa fuori dall'acqua poi ha iniziato a saltare sì no io sicuramente quel giorno lo stesso giorno di cui parla Simone c'è stato un momento che sono entrato in acqua a fine giornata perché ricordiamo che non puoi non puoi immergerti se ci sono le balene le balene praticamente era nel 90% del pianeta perché è vietatissimo ovunque eravamo un attimo fermi con la barca entro in acqua con la fotocamera e le maschere e pinne mi allontano il tempo di riavvicinarmi alla barca ho messo la testa in acqua ho cominciato a gridare come un pazzo nel boccaglio nella barca si mi sentivate perché è arrivata questa megattera di 10-12 metri dal blu l'ho vista lì davanti e non mi era mai capitato di vedere né una balena sott'acqua ma comunque un animale così grande è stato un incontro forse il più assurdo che ho fatto perché comunque ero da solo era inaspettato e quando è arrivato lì mi ha guardato di profilo e poi è andato nel blu in profondità magico non ho capito nulla ho fatto una foto e poi gridavo bellissimo bellissimo qual è l'animale preferito il pesce preferito che volete incontrare sott'acqua che voglio incontrare il mio non dire nemo no nemo non dico nemo era molto scontato ma era ed è il grande scuolo bianco il mio animale preferito che ho avuto il piacere di vedere in Australia è il dottore qua il piacere dipende dipende come lo vedi per me è stato un piacere per fortuna però dipende effettivamente da come lo vedi poi altri animali sulla bucket list diciamo sicuramente lo squalo balena o anche lo squalo volpe perché no anche lo squalo elefante che a me lo trovo molto affascinante un po' poco scontato o in generale anche a me piacciono gli animali grossi quindi balene qualsiasi tipo di cetaceo di una dimensione importante sarebbe emozionante comunque io faccio il infatti perché hai citato lo squalo volpe no no ma infatti faccio il lancio ci sono diversi viaggi in programma no ma davvero parlamene un po' raccontami no ma fare un viaggio hai fatto tutto inaspettato l'ho studiato hai messo nel piatto no c'è un viaggio a Capodanno 2025 squalo volpe nelle Filippine che ho già avuto la fortuna di vedere un paio di anni fa ce l'hai tatuato tra i vari squali volpe e dai è falso wow pieno di squali ed è l'hotspot mondiale dove poter vedere squali volpe perché praticamente c'è un sito fuori dall'isola di Malapasqua quest'isola in mezzo all'oceano nel nulla e c'è un sito che risale dai 200 metri fino ai 30 più o meno dove una grande popolazione di squali volpe torna su guarda i subacquei gira intorno e osserva è grande lo squalo volpe sì è molto grande sì poi la coda è lunghissima lo rende gigante sì caccia con la coda è una roba come caccia con la coda in che senso attacca le prede e dà la schiaffeggia con la coda ma veramente questo non lo sapevo se vedessi il video di uno squalo volpe che attacca è fuori di testa perché è proprio la meraviglia della natura Indiana Jones con la così c'è questa coda lunghissima dove a un certo punto ti arriva lo schiaffo stordisce la preda e poi se la magna se la figlia sì 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 è pazzesco quindi Simone adesso mi informerò andrò su sivola.it .com non so .it .it bene abbiamo anche un altro quello delle Maldive però Maldive l'hai fatto anche già quest'anno con noi è stato il tuo secondo viaggio perché tu porti proprio viaggi subacquei abbiamo aperto questa linea subacquea in Sivola proprio in collaborazione con te perché creiamo tanto anche nel tuo lavoro raccontaci anche di questo viaggio alle Maldive cosa è stato Maldive uno si immagina l'atollo il resort ma noi no no noi abbiamo fatto una crociera subacquea che rifaremo ad aprile stavolta vengo 2025 sì esatto l'anno scorso mandavamo foto a Claudio e lui io ero in buta in mezzo ai tempi buddisti e non dico quello che ho perché no sarei sacrilego no è stato assurdo perché dieci giorni di crociera subacquea e tre immersioni al giorno quindi sveglia alle cinque e mezza sei del mattino per l'alba sì perché fai le due immersioni la mattina e dopo pranzo diciamo per le quindici fai la terza immersione oppure la fai il pomeriggio che serve la notturna ed è assurdo perché abbiamo visitato tutti gli atolli centrali delle Maldive e abbiamo visto di tutto una quantità di squali infinita squali di barriera squali grigi pinna nera pinna bianca anche un tigre in lontananza wow sì pazzesco e poi incontri assurdi la manta la manta gigante eh le Maldive sì perché ci sono le cleaning session dove le mante vanno per farsi ripulire diciamo dei piccoli pesci sì a pochi metri d'acqua di profondità e io non avevo mai visto la manta ancora veramente ti mancava mi mancava banalmente in tutti i viaggi che ho fatto c'erano tutti i punti manta point sì non ho mai avuto la fortuna di beccarla lì è stata la prima volta di notte wow ed è stato assurdo un animale che danza no assurdo sia sott'acqua che sopra perché poi salta anche fuori sì quando caccia anche e lì invece era un manta point dove di notte c'erano due mante che giravano sopra la testa ma dovevi fare attenzione perché tra poco cioè mancava pochissimo che ti si si ti venivano addosso ed è un'emozione vedere quell'animale sott'acqua sì sì tanta roba davvero perché gigante gigante l'apertura aspetta che ora facciamo un gioco allora è più grande l'apertura all'aria di una manta o quella di Simone Barlamo perché Simone se non sbaglio due metri zero otto di apertura all'aria corretto qualcosa del genere mi sa che non va ad allargare arrivi sì ma infatti c'è la foto forse la prima gara che sei braccia aperte braccia aperte sembra una statua tutte le corsie tocco veramente pazzesco senti Marco hai parlato di squali ovviamente magari chi ci ascolta chi ci vede può pensare allo squalo come del film lo squalo animale iper mega pericoloso vogliamo sfatare una volta per tutto in pochi minuti questo mito perché tu sei un grande esperto di squali lo porti avanti anche nelle tue ricerche insieme a tuo fratello ti fai portavoce della difesa degli squali perché è importante difendere gli squali parliamolo un attimo allora il podcast adesso durerà due ore e 40 minuti preparate mettete il per due no 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 cerco di essere davvero veloce purtroppo c'è un'ignoranza e disinformazione infinita sugli squali è un animale stereotipato a causa dei film demonizzato in tutti i modi poi purtroppo quando pensiamo allo squalo pensiamo solo al grande squalo bianco dei film purtroppo o grandi squali ma in realtà esistono più di 540 specie di squali al mondo sempre meno delle medaglie di Barlama sempre meno delle medaglie di Simo e ci tengo a sottolineare un piccolo dettaglio lo squalo è l'animale al vertice della catena alimentare della rete alimentare e purtroppo l'uomo sta causando la sua estinzione ricordiamo che lo squalo è un animale preistorico è assurdo che sia sopravvissuto all'estinzione di massa e l'uomo oggi sta causando la sua estinzione gli squali non sono pericolosi noi non rientriamo nella loro dieta quando fai un'immersione con uno squalo ovviamente ci sono i protocolli per ogni squalo da rispettare ma se rispetti l'animale non avrai mai e poi mai nessun problema quello di cheat Marco Spinelli cheat Marco Spinelli no se sentiamo a volte è ovvio che la notizia dello squalo fa sempre più rumore sono sempre incidenti come possono capitare con qualsiasi animale al mondo ma quando fai un'immersione con uno squalo e lo guardi negli occhi è un'emozione incredibile sì per me è la sensazione più bella che abbia mai provato nella mia vita proprio solo quel e poi lo vedi per come va giù l'aria in quel momento ti sembra di respirare normale ma poi dopo va giù va giù qualcosa hai vissuto in quel momento sì anche quando vedo Simo sott'acqua che lo guardo così che lo guardo senti Simo tu viaggi tantissimo per lo sport ovviamente però cosa riusciamo a trovare in comune tra sport e viaggio ovviamente poi ti ritagli il momento anche per viaggi personali come è stato il Madagascar spero di vederti anche in altri nostri viaggi magari alle Maldive la prossima primavera però se mi vuoi raccontare un po' come vivi questo questo connubio tra sport e viaggio anche i pochi momenti che hai probabilmente per dedicarti a viaggiare in maniera semplicemente per divertirti fare immersioni con Marco esatto alle Filippine diciamo che ovviamente le mie attrazioni principali quando viaggio sono aeroporti e piscine quindi non è che sono delle location così selvagge però in molte trasferte specialmente quelle più lontane dove quindi devi trascorrere più tempo all'estero per il fuso orario riesci a ritagliarti prima o dopo le gare un po' un po' di tempo per te per visitare noi abbiamo visto Città del Messico siamo andati alle piramidi le abbiamo scalate è bellissimo è stato incredibile sembra veramente di essere sul set di un film a un certo punto di vista e quindi no lo vivo bene anche se purtroppo molti io dico sono stato a Tokyo sono stato a Singapore sono stato lì però effettivamente ho visto poco ho visto dal Pullman qualcosa hai visto la Torre Eiffel? sei salito? la Torre Eiffel l'hai vista? l'hai vista ma non sei salito? non questa volta non sei salito questa volta però a Parigi ho avuto la fortuna di andarci molte volte la conosco bene come città ci sono salito qualche volta questa volta no abbiamo visto altre parti di Parigi però diciamo che questo alla fine quando si viaggia non si guarda molto non si riesce a vedere molto però mi va bene così per carità se c'è un posto che voglio visitare bene che mi ha colpito abbastanza ci torno poi in autonomia io come fatto con il Madagascar per esempio come magari farò con Tokyo con il Giappone in futuro chissà ti piacciono più i viaggi via terra o via acqua? beh tra i due sicuramente le camminate non le sopporto quindi preferisco via acqua diciamo che io amo l'acqua come costante quindi la mia idea di vacanza è la spiaggia la spiaggia il mare poi per carità Tokyo non ne ha tanto c'è la baia però non so se forse erano più pulite l'acqua della Senna non lo so forse sì ho il naviglio qua il naviglio però sì l'acqua per me immaginandomi un viaggio è una costante poi sono aperto a tutto per carità però non sciando non essendo uno da montagna l'unica cosa che posso andare lì è bere il bombardino al rifugio però voglio dire non è male andrebbe invece tra i patrimoni dell'umanità unesco esatto allora a proposito di viaggio abbiamo un giochino per gli ospiti allora lì ci sono in quella bull sei biglietti quindi avete tre a testa di pescate a caso e per ognuno delle scritte che vengono fuori mi direte il top e il flop di quello specifico argomento in viaggio siete pronti? vai e qua non facciamo il 3-2-1 prossimo andiamo il signor Spinelli vediamo vediamo il mezzo di trasporto su cui hai viaggiato top e flop top e flop vabbè sicuramente flop lo dico subito perché mi è venuto in mente durante un viaggio esattamente nelle Filippine ok prima di arrivare sull'isola di Malapasqua sono arrivato in questo porticciolo piccolino con mio fratello e purtroppo no purtroppo dovevamo recuperare dei soldi perché dovevamo fare il cambio di soldi ma non ci avevamo avvisato che poi sull'isola non avremmo trovato nulla perché è un'isola super wild e sono rientrato in un paesino con un tizio del porto su uno scooter che mi ha accompagnato su una moto e il problema il problema è che ho fatto praticamente un'ora di viaggio su questa moto dove il filo dell'acceleratore si è completamente staccato però e quindi ci siamo ritrovati un viaggio di un'ora è durato tre ore ha smontato la moto e mi sono ritrovato con questo tizio che ha tirato fuori tutto il filo dell'acceleratore e lo ha legato al braccio non ci credo si si no è una situazione si accelerava così no ma fantastico c'è del genio c'è del genio comunque è bellissimo questi episodi qua in viaggio per me prendono un'onda diversa completamente ma poi immaginati senza linea senza telefono non potevo avvisare mio fratello è un viaggio di un'ora è durato tre ore quindi mio fratello ha detto ok è finita è finita è finita è finita è finita è finita e mezzo di trasporto top ma ti direi guarda per comodità e bellezza il catamarano ho fatto in diverse parti del mondo ho fatto una crociera alle Bahamas in catamarano ed è ti dà la possibilità di vivere quella sono d'accordo sì quella tutti i mezzi in autice è anche quello che preferisco soprattutto per le immersioni sì perché è davvero un mezzo di trasporto molto comodo e ti permette di vedere tanto in comodità e anche ormeggiare esatto in rada tranquillo sì top quindi ora tocca a me entrare vediamo cosa cosa mi capita qua attività fatte durante un viaggio dunque non è proprio un'attività flop ma si può magari ricollegare anche ai mezzi se così si può dire diciamo un'attività flop top flop diciamo nel luogo dove eravamo a Parigi a Casa Italia sì quindi è recentissimo abbastanza recente però torniamo a due anni prima ok io e il mio amico il mio compagno di squadra Alberto Modeo siamo andati a Parigi non per fare il sopralluogo così perché c'era l'Ola Palusa un bel festival di musica e per salire sulla Torre Eiffel che sapevi che durante le Olimpiade non sarei segnata esatto a vedere i cerchi a vedere gli agitos e tutto quanto usciti dal concerto ovviamente c'era un sacco di gente che aspettava che aspettava i Uber aspettava i taxi i telefoni ovviamente non vanno perché sono troppi e quindi lui era in sede all'hotel e io ero in sede all'hotel perché stare in piedi tutto quel tempo nei concerti è faticoso un po' per me quindi abbiamo avuto la brillante idea di abbiamo il telefono quasi scarico se no non sappiamo come andare ci facciamo tutta Parigi di notte in sede all'hotel in mezzo alla strada neanche sul marciapiede quindi facendo slalom tra le macchine in coda e stiamo arrivati 50 minuti dopo all'hotel con le mani nere piene di polvere stanchissimi doloranti però contenti perciò non so neanche se top o flop e poi di attività top mi ricordo in Australia quando abbiamo fatto con altri studenti internazionali il viaggio a vedere la Gold Coast quella parte là del Queensland che abbiamo fatto non mi ricordo adesso il fiume il torrente rafting e quello è stato fighissimo anche perché poi c'era chi cadeva in acqua e come se niente fosse ci tirava su ah ma qua c'è qualche coccodrillo dai come se niente fosse quello è stato veramente un momento meglio strani ce l'hanno quello spirito di rumorismo ce l'hanno ce l'hanno infatti quello è stato abbastanza incredibile grazie vado non è finito qua no avete ancora due alloggio dove hai dormito oh io voglio sapere dove dorme i flop di Marco Spinelli secondo me top è quello che hai fatto recentemente quest'estate che ti ho scritto dove eri eri i vizzeri formentera dov'è che eri ah formentera quello sicuramente è uno tra i top sì vabbè ero lì per la volo sì devo dire che vabbè formentera ti hanno trovato bene sì 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 dai flop una catapecchia dove hai dormito non ci credo che l'hai mai fatto sì vabbè ma ce n'è veramente tanti ragazzi ma sai perché perché ti racconto sempre meno delle medaglie di Barlamo sempre meno di Simo io praticamente ho un miglior amico Mattia con cui faccio solo delle cose stupide bello cioè la nostra amicizia negli ultimi 10 anni si è basata in perché poi il tema è il viaggio io che lo chiamo allora questo weekend dove andiamo boh non lo so prenota io compro il primo biglietto che trovo questo è stato fatto in questi 10 anni il biglietto proprio più economico ti faccio un esempio tipo Copenaghen Norimberga Hamburgo Cipro io quando trovavo la meta boh prenotavo senza guardare neanche io di Cipro non sapevo nulla di Norimberga non sapevo nulla di Lussemburgo non sapevo nulla però prenotavamo così poi lui era l'addetto al trovare un alloggio è ovviamente la stessa modalità la prima roba che trovi è un alloggio adesso è venuto in mente ad Hamburgo siamo arrivati davanti a questo edificio completamente abbandonato wow con un gommista e allora io guardo sul telefono la scena era il gommista sembra la scena di Aldo, Johnny e Giacomo via Washington il mese giusto il mese giusto e c'è questo gommista e dico no non può essere questo è il posto e allora a un certo punto arriva il il gommista ciao ragazzi salve ci fa entrare dalla sì dalla dall'officina ci porta su e questo era un appartamento che puoi immaginare i bagni erano nel piano erottolo del non era neanche un B&B questo io non so come io le adoro queste cose le adoro completamente il signor Michael mi ricordo il nome salutiamo il signor Michael facciamo venire le Maldive Mattia poi a un certo punto ha smesso di prenotare gli alloggi perché ti sei in cui ci affiderassi forza ci sta onesto vai Simo andiamo il piatto locale che è assaggiato in un viaggio allora il flop ce l'ho già ed è la cosa più terribile che abbia mai mangiato in vita mia che forse penso che tu abbia assaggiato il natto oddio non so se hai presente il natto che sono tipo dei fagioli di soia fermentati che sembrano la bava di venum quando li tiri e odorano di bidone dell'umido sì sì sono d'accordo è terribile io odoro la cucina giapponese ma il natto non so come fanno mangiare eravamo a Sendai in collegiale prima delle Paralimpiadi di Parigi ciao di Tokyo però anche prima di Parigi qualche anno prima e i chef che c'erano lì un giorno ci avevano fatto cucina giapponese quindi tutto buonissimo sushi e c'era questa roba che non capivamo cosa fosse questi fagiolini qua e nel servirceli loro ridevano sotto le mascherine chissà ho aperto è arrivato questo sbato ho assaggiato non l'ho finito io odio lasciare il cibo che avanza non ce l'ho fatta è stato terribile e almeno sai bene di cosa parlo come top me ne vengono un piatto e un drink il piatto in Portogallo il drink è una cosa particolare il piatto la francesigna che ho assaggiato in Portogallo dopo i mondiali del 2022 che è questo panino gonfissimo con uovo con odoro forma tutto che è una roba pesantissima però molto buona e come drink torniamo in Giappone in aeroporto ad aspettare il nostro volo di ritorno ci annoiavamo abbiamo comprato nelle macchinette per finire gli ultimi gli ultimi yen che avevamo quest'acqua alla pesca quest'acqua alla pesca che non so se era il momento che era l'euforia a noi è sembrata come una pesca più succosa che tu possa prendere una carezza sulla lingua pescosa una roba che veramente i giapponesi ce l'hanno hanno tanti quelle bibite assurdo e l'abbiamo assaggiata qualche anno dopo in Paolo Salpi a Milano l'effetto è sempre lo stesso quindi quella non mi ricordo la marca ti svegli un segreto in Giappone io sono appassato di provare queste bibite sono proprio curioso anche se non dovrei perché col diabete sono tutte iper zuccherate non va bene però quando andavo in crisi ipogricemica la mia preferita era la Coca Cola e la pesca che non si trova però da quell'effetto lì perché quando tu dici questa sofficienza della pesca sì lo sentivo anch'io assolutamente confermo dovrò provarla allora quando andrò a Tokyo saprò cosa bere bellissimo ma quando invece andremo a Okinawa io e te ti faccio provare il natto con la Coca Cola alla pesca uno dei due ti pulisci la bocca faccio veramente fatica faccio veramente fatica ho assaggiato delle robe nelle Filippine che non ti saprei dire il nome eh sì perché poi succede questo provi cose che non sai cosa sono sì 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 beh c'era molto top anche in Madagascar lo zebu tutto il pesce ovviamente quello era molto top c'è in Madagascar tutto buonissimo cioè c'è da dire una cosa a me personalmente la cucina a Malgasia è una di quelle che mi è piaciuta meno come Malgasia quella proprio local il fatto è che dove siamo noi nel viaggio siamo comunque con la cucina occidentale utilizzando la materia prima Malgasia lo zebu è effettivamente buono il pesce è straordinario si mangia bene io la cucina local Malgasia quando l'ho mangiata nelle stazioni dei bus dove lui dormiva dove lui dormiva tu mangiavi anche no anche no anche quando fai i giretti interni nei villaggi anche il mercato centrale quella verdura verde scura la mangi ma è amarissima non mi piace non mi piace vediamo l'interazione più memorabile con i local consideriamo anche i pesci dai nel tuo caso e dai sono local interazione top e flop vabbè flop ragazzi flop è veramente un flop che mi è rimasto qui è Stefano Cantarini è Stefano Cantarini quando mi sono svegliato e c'era Stefano Cantarini ciao Stefano no l'interazione più flop è stata in Messico un paio di anni fa ero lì per un viaggio con mio fratello in Mersioni per l'Aiel Carmen se no Otis robe incredibili e praticamente una sera il posto dove alloggiavamo c'entra il cibo di nuovo perché dove alloggiavamo non si mangiava molto bene allora un giorno chiediamo al tipo del diving questo signore sulla sessantina ma scusami dove possiamo trovare un posto questo personaggio mitologico ci consiglia un un ristorantino ma una roba veramente sì super spartana però ti fidi no è local ti fidi ad occhi chiusi lui poi ce l'ha venduto con il posto più buono dove mangiare intossicazione di quattro giorni intossicazione entrambi io e mio fratello l'intossicazione peggiore della mia vita sì no l'intossicazione pesante ho perso un paio di chili e non riuscivo neanche a bere acqua mamma mia è stato terribile ragazzi immagino tequila sì invece tequila colazione con i cereali e top sai che forse ti direi l'immersione con lo squalo volpe sembra tutto collegato però è stata una delle mie prime immersioni io non l'ho mai visto lo squalo volpe dal vivo una delle prime immersioni con squali poi uno squalo gigante ma la cosa più bella è stata come abbiamo fatto l'immersione perché ci siamo svegliati alle quattro di notte i ragazzi filippini gli istruttori che ci hanno portato a fare immersione erano veramente sai quelli che le persone che sanno di mare cioè veramente nei loro occhi c'era solo il mare e non era l'immersione con i turisti era dobbiamo andare a vedere lo squalo volpe anche perché loro venerano praticamente è un animale poi ovviamente devi anche pensare dal punto di vista economico questo squalo cosa porta a quelle isole per loro è veramente venerato e ci siamo svegliati prestissimo abbiamo fatto un'ora di navigazione in mezzo al nulla ci buttiamo nel blu scendiamo a 30 metri e c'era quella montagna di cui vi parlavo che risaliva arriviamo sul fondo e aspettiamo per 10-15 minuti cioè metà immersione fermi a guardare il blu e il tipo mi diceva aspetta 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 e diceva ma che aspetto qua mi sa che è finita dopo 10-15 minuti si è arrivato questo squalo nel blu che ti guarda e lui era felicissimo del beh certo era super felice di avermi reso felice beh ma è quello che succede nei viaggi facendolo sempre con i viaggi di gruppo quando è chiaro che a rivedere lo stesso posto tante volte l'emozione si riduce è normale però quando vedi l'occhio che brilla delle persone che hai portato in quel determinato posto sta a vedere l'aurora boreale il vulcano che erutta i gorilla in uganda gli squali cioè quando vedi quelle emozioni da parte delle persone ti si riempie il cuore è come se anche per te fosse la prima volta bellissimo ti ci riveli a me piace tanto e ti faccio un esempio veramente stupido ma che fa ridere è la stessa cosa che provo un siciliano quando arriva l'amico e prova per la prima volta la granita e io guardo sempre e dico assaggia questa granita no ma io già l'ho assaggiata fidati di me devi assaggiare questa qui quando l'assaggi e vedi la loro faccia tipo ma cos'è questa roba si si è vero prossimamente tour gastronomico della Sicilia con Marco Spinelli per si vuole ci sta che hanno oli granite e arancini si mangia molto bene ma dopo Toggio in Sicilia in due settimane ho preso 10 chili non a casa tra sfincione quale pensato scusami tu me l'hai detto in Madagascar questa cosa quando non ti alleni cioè tu quando ti alleni consumi quante calorie al giorno 4 o 5 mila si più un sacco a pranzo sono 400 grammi di pasta minimo e quando non ti alleni ti sfondi uguale il problema è quello che un po' la fame diminuisce però la gola aumenta perché quindi puoi concederti sfizi robe belle ipercaloriche quindi sei molto goloso quando vai in giro ti piace provare cose particolari sono più da salato però sono molto goloso al cibo secondo me è un grande aspetto infatti anche il nato però me lo ricordo comunque ho un ricordo piacevole terribile però però l'esperienza che leggo a quello poi associo molto anche un paese che visito al cibo anche perché non visitando tanto per legare però magari posso assaggiare qualcosa di tipico quindi lo associo molto se vai a cena con Simo è un experience non avanza niente se c'è qualcuno nel tavolo che mangia poco è ben accetto è ben accetto è ben accetto vai vediamo souvenir che hai acquistato durante un viaggio top e flop dunque possiamo dire il top un po' flexino non è acquistato però un pezzo di Tour Eiffel diciamo che dentro la medaglia adesso di Parigi non l'ho acquistato l'ho acquisito però c'è un pezzo di Tour Eiffel no davvero si spiega la medaglia è fatta c'è la medaglia classica oro, argento, bronzo ma c'è un esagono che è un pezzo di Tour Eiffel con scritto Paris 2024 se cade la Tour Eiffel è per questo posto di voi atleti e ci hanno dato questo scatolone box medaglia che è gigantesco con dietro il certificato dell'antiticità della fondazione ma la medaglia d'oro è veramente d'oro è d'oro secondo me è placata d'oro la maggior parte della gente è placata d'oro anche perché pesa o sbaglio è tipo un po' più di mezzo che io quindi pesa una medaglia 570 grammi tipo giù di lì e quindi pesa non sembra ti arriva sto pum questo pezzo di sembra quasi che diventi veramente eh vedi che qualcosa ne so souvenir flop mi vengono in mente un po' in generale i souvenir che ho preso dal Bahrain l'anno scorso per i miei amici che tuttora non glielo ho dati perché ci dimentichiamo sempre classico proprio ero lì per un premio dentro questo hotel super lussuoso eccetera eccetera c'era questo negozietto di souvenir un piccolo bazar probabilmente tutte robe da turista che infatti io ci sono caduto nella trappola piena tra cui una lamparina del genio della lampada terribile che ho preso per un mio amico che tuttora non gli ho dato ed è lì sulla mia scrivania a prendere la polvere che spero di dargli il primo po' tanto i souvenir sono dei prendi polvere esatto è vero è vero è vero ma è il gesto la lampada dell'aladino hai raggiunto il livello di kitsch trash bello alto poi dici con la polvere magari assume quel valore che la spola risolta va beh è questo ragazzi grazie davvero di aver partecipato a questa puntata a temi inerente viaggio acqua eccetera ma prima di lasciarvi andare la domanda più importante ve la faccio io il viaggio della vita nella wishlist quello che vorreste fare in assoluto più di tutti prossimo aprile con si volano con Marco Spinelli no a parte i scherzi l'hai menzionata prima l'aurora boreale è una cosa che mi interesserebbe e secondo me sarebbe dal vivo deve essere una cosa la prima volta che la vedi aspettiamo in Islanda esatto quindi quello nella wishlist Marco io ma da una parte c'è l'incontro con lo squalo bianco e dall'altra c'è esatto e dall'altra c'è la polinesia francese con le megattere è uno dei pochi posti dove puoi immergerti perché sono in maniera sostenibile sì sì sono stanziali non disturbi più o meno ovviamente sempre avendo quel massimo rispetto per l'animale e Morea Morea è un posto dove se vedi le foto i video no no ho capito ho presente veramente un numero infinito di megattere e tu che nuoti lì tocca andare nel 2025 Morea ragazzi si vola noi ci saremo voi speriamo di sì ragazzi grazie davvero grazie a te e buoni viaggi buon tutto grazie ciao ragazzi ciao grazie a te grazie a te